salve a tutti e benvenuti in questa quinta parte del nostro articolo la rincarnazione non esiste in questa quinta parte andremo a leggere uno dei sette passi contestati dai reincarnazionisti e dai falsi profeti degli ultimi tempi presenti nel cristianessimo per sovvertire o cercare di sovvertire la parola di dio essendo che sono sette i passi contestati cercheremo di fare quindi sette parti e andare a leggere con calma ogni passo e la spiegazione del passo in modo da poter contestare la reincarnazione presente nella bibbia e nel vangelo ma che non sono presenti ma come ci dice l'apostolo paolo ci sono alcuni che vogliono sovvertire il vangelo di cristo e quindi se qualcuno vi presenta un vangelo diverso da quello che vi è stato dato sia anatema oggi vediamo il proliferarsi di falsi profeti nella religione cristiana soprattutto in quella cattolica falsi profeti che parlano della reincarnazione ma come abbiamo visto nelle parti precedenti non può essere perché la stessa madonna a meggiugori lo stesso gesù nelle rivelazioni di maria valtorta aboliscono questa invenzione umana e ci parlano della verità la verità che è sarà sempre gesù cristo la resurrezione e la vita eterna i testi biblici presi per sostenere l'idea della reincarnazione sono i seguenti nel primo testo andiamo a leggere matteo 11 14 e matteo 17 12 13 riguardo all'identità di giovanni il battista il primo testo concerne l'identità di giovanni il battista che i reincarnazionisti suppongono essere la reincarnazione del profeta elia in matteo 11 14 gesù dice se lo volete accettare egli giovanni il battista e le via che doveva venire più avanti nel rispondere agli apostoli riguardo alla venuta di ilia gesù dice loro ma io vi dico elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto così anche il figlio dell'uomo deve soffrire da parte loro allora i discepoli capirono che gli aveva parlato loro di giovanni il battista a un lettore frettoloso può sembrare che questi versi implichino la reincarnazione del profeta elia in giovanni il battista la profezia del ritorno di elia si trova in libro del profeta malachia ecco io vi mando il profeta elia prima che venga il giorno del signore giorno grande e terribile egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio proprio prima dell'adempimento di questa profezia con la nascita del battista un angelo aveva annunciato al suo padre zaccaria andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di elia per volgere i cuori dei padri e ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti per preparare al signore un popolo ben disposto cosa significano le parole con lo spirito e la potenza di elia secondo gli altri passaggi biblici che si riferiscono a elia e al battista non insegnano la reincarnazione al tempo in cui giovanni il battista cominciò la sua predicazione pubblica i sacerdoti gli chiesero sei tu elia giovanni 1 21 in tali circostanze un vero guru non avrebbe esitato a dichiarare la sua posizione nella successione dei maestri spirituali nella tradizione che gli rappresenta ma giovanni il battista rispose semplicemente non lo sono e già dal momento in cui giovanni battista dice di non essere l'elia che doveva venire sta confermando di non essere la reincarnazione di ria il motivo della sua negazione è che giovanni il battista era un tipo di ria un profeta che avrebbe dovuto ripetere la missione di ria in un contesto simile al suo come ria prima di lui anche giovanni il battista dovette subire la persecuzione della casa reale e agire nel contesto di degenerazione spirituale in cui versava la nazione di israele con la missione di ricondurre le persone a dio il battista aveva lo stesso incarico spirituale del profeta elia ma non la stessa anima o lo stesso se dunque nell'espressione con lo spirito e la potenza di ria non bisogna vedere l'idea della reincarnazione di una persona ma la necessaria ripetizione di un episodio ben conosciuto nella storia di israele un altro testo biblico che contraddice la teoria della reincarnazione in questo caso è la storia della scomparsa di ria da questo mondo egli non morì fisicamente ma fu trasportato in cielo la teoria classica della reincarnazione afferma che una persona deve prima morire affinché il suo se possa reincarnarsi in un altro corpo nel caso di ria questo ovviamente non accadde infine dobbiamo ricordare l'esperienza dei tre apostoli al monte della trasfigurazione dove in presenza di cristo apparve elia e fu identificato dagli apostoli senza alcun fraintendimento che potesse trattarsi del battista abbiamo terminato la prima parte che vi invito a leggere e approfondire questa piccola catechesi io vi aspetto nel prossimo video per andare a parlare del secondo passo dove tratteremo il versetto giovanni 9,2 chi ha peccato lui o i suoi genitori perché si è nato cieco sia lodato gesù cristo grazie grazie